Eh sì, eccoli qua, tutti pronti per la loro prima effettiva lezione con le telecamere. Le vedo già sorridenti, sono già un po' emozionati. Prima me l'hanno detto e cominciano un po', però piano piano si abiteranno alle telecamere. Iniziamo a presentarli. L'equitazione è un po' per me uno stile di vita ormai. È un po' una via di fuga. La vivo un po' come un modo per scaricare tutte quelle che sono in me, le tensioni, i problemi. Cioè fondamentalmente anche quando arrivo in maneggio la mattina, monto sul cavallo e passa tutto. Allora, io da monto da quando avevo otto anni e avevo provato molti sport prima, ma appena sono salito su un cavallo ho deciso che quello sarebbe stato il mio sport della vita, diciamo. Poi andando avanti col tempo, iniziando a fare le gare, ho deciso di cercare di portare questo sport avanti sperando che diventi una professione futura. Io monto da quando sono piccola e ho iniziato a montare a un maneggio vicino casa. Poi da lì abbiamo iniziato, diciamo, ad avere una scuderia nostra con dei nostri cavalli e per me è la vita perché oltre che una passione è anche un lavoro. Vivo per questo, è quello che mi piace fare, è il mio obiettivo nella vita e quindi cerco di impegnare la mia giornata principalmente in questo a cercare cavalli, cercare di migliorare il mio cavallo e tutto ciò che è intorno a questo particolare mondo, diciamo. Mi trovo bene con tutti, dai coach, dai ragazzi della squadra e ci troviamo bene in tutto, ci capiamo, siamo disponibili e è quello che volevo io, è quello che cercavo. Grazie a tutti.